Trieste Espresso 2018 è arrivato il momento di Cida Lavorazione Caffè, un'azienda campana che realizza per torrefazioni, ma non solo, in tutta Italia una serie di prodotti in conto terzi. Ci troviamo in compagnia di Angela Maria Saggiumo, la responsabile sviluppo per l'azienda che invitiamo a salutare. Ciao Angela e bentornata. Buonasera, buonasera a tutti. Perché qui a Trieste Espresso 2018? Siamo qui per innanzitutto conoscere nuovi mercati che attualmente non conosciamo e per portare le novità che abbiamo attualmente sviluppato. Parliamo in davvero pochi secondi di Cida Lavorazione Caffè. Quando nasce, come si sviluppa, oggi in che modo è presente nel segmento? Cida Lavorazione Caffè è un'esperienza ventennale nel settore e nasce come azienda che si occupa fondamentalmente di lavorazione conto terzi. Siamo una torrefazione un po' anomala perché ci affianchiamo ad altre torrefazioni per dar loro la possibilità di ampliare la gamma di prodotti. Abbiamo infatti diverse linee produttive che coprono attualmente tutti i prodotti che sono sul mercato. Parliamo di ovviamente capsule compatibili, cialde, caffè in grani e macinato. Abbiamo un ufficio grafico interno che è specializzato nel settore del caffè e quindi può costruire un nuovo brand o occuparsi del restyling di un brand storico. Oppure ovviamente la creazione di un nuovo brand come ho detto poc'anzi. Contestualmente abbiamo anche quattro nostri marchi. Un ultimo è stato acquisito nell'anno precedente ed è un marchio storico di caffè, Aloia SRL. Il nostro bambino è invece Moka Moka Caffè che è il nostro marchio con cui ovviamente tentiamo di ampliarci in Europa ed oltre. Angela, voi realizzate per conto terzi capsule di vari sistemi per torrefazioni, società di gestione e comunque aziende che desiderano produrlo col proprio marchio. Ma esclusivamente caffè o anche prodotti solubili? Soltanto caffè, abbiamo delle collaborazioni per quanto riguarda i solubili. Probabilmente ti do una piccola chicca, prossimamente avremo la possibilità di produrre in casa anche i solubili. Quindi questa è una piccola novità che però presenteremo prossimamente nelle prossime fiere che ci vedranno protagonisti nel 2019. E noi ne daremo conto attraverso questi microfoni e ora Angela veniamo a Trieste Espresso. Cosa presentate in questa biennale dedicata al caffè qui a Trieste? A Trieste Espresso presentiamo due novità. Una prima novità è un configuratore con cui i clienti e i visitatori della fiera possono creare di persona il loro logo. Oppure importando il loro logo nel configuratore possono creare e vedere come il loro logo appare sui diversi prodotti che noi abbiamo. Quindi box, etichette, cialde, capsule e incarti in genere. Un'altra piccola novità è la creazione del logo olfattivo. Noi curiamo i prodotti per il nostro cliente dalla A alla Z, sin anche a creargli un logo che non sia grafico ma che sia olfattivo. Il marketing olfattivo ormai sta prendendo molto successo ultimamente e con il logo olfattivo noi fidelizziamo il cliente a sentirsi coccolato ma non solo, a ricordare un brand preciso. E ovviamente le diverse soluzioni di emissione del logo olfattivo possono essere appunto svariate. Noi per Trieste Espresso abbiamo creato un'evoluzione del nostro logo olfattivo indirizzato alla persona. Ovviamente questo logo olfattivo può essere poi installato all'interno degli shop per dare proprio la sensazione di una piccola torrefazione in un negozio. Io devo dire che mentre lei parla io sento con il mio olfatto i tre profumi che sono rappresentati proprio da queste tre indicazioni che non si possono spiegare. È difficile esprimere qualcosa che diciamo si prova con il proprio olfatto. La memoria olfattiva è il nostro senso più sviluppato perché è il senso più primitivo e oltretutto è il senso che abbiamo dall'inizio ed è collegato direttamente alla memoria e al ricordo. Chiunque passando davanti a una penetteria, a una pizzetteria, ha voglia di acquistare il prodotto. Quindi pensiamo a passare davanti ad un negozio di caffè e a sentire un odore di caffè persistente come quando da bambini si sentiva in casa l'odore della mocha con il caffè appunto appena erogato. L'odore della mocha? E noi tentiamo di riprodurlo proprio con queste nuove profumazioni che stiamo lanciando. Angela, grazie, sei stata esaustiva, sei rimasta nei tempi televisivi che ti avevo indicato. Saluta tutti loro che sono dall'altra parte. Grazie mille a tutti, vi ricordo di contattarci per qualsiasi tipologia di informazione alla nostra mail assistenza-cidalavorazionecaffè.it Una volta scritto a voi che cosa accade? Vi risponderemo con una mail molto chiarificatrice con tutte le nostre referenze, indicandovi appunto le referenze che possiamo produrre per vostro conto, i quantitativi, i riferimenti anche di prezzo e tutto quello appunto che possiamo fare per voi. Senza alcun impegno? Assolutamente. Grazie Angela. Amici, noi continuiamo qui a Trieste Espresso 2018 per presentarvi con telecamera e microfono tutto o quasi quello che viene presentato. Noi ci ritroveremo a una prossima fiera. Ciao Angela. Ciao.